Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti sono super emozionata di girare questo video perché sono veramente entusiasta di poter aprire questo fantastico mega pacco che mi è stato inviato da YesStyle e YesStyle mi ha inviato questo fantastico pacco gigante che andremo ad aprire insieme ovviamente ho aspettato voi per aprirlo non so assolutamente che cosa c'è all'interno quindi lo andremo ad aprire insieme, faremo un piccolo unboxing Allora ragazze, YesStyle è un sito, per chi non lo conoscesse, è un sito veramente immenso che vende specialmente prodotti per la skin care coreana e ci sono veramente più di 400 brand su questo sito lo conoscevo già perché io già ci compravo, quindi ero già cliente di YesStyle di tempo tempo fa e quando mi hanno contattata appunto per chiedermi di collaborare con loro ero felice alle stelle, non potete capire veramente quanto fossi contenta perché sapete quanto io tenga alla pelle e quanto tenga alla skin care quindi comunque provare prodotti che qui sono ovviamente irreperibili era una cosa fantastica quindi ho accettato questa collaborazione e loro mi hanno dato la possibilità addirittura veramente sono stati super super gentili allora mi hanno dato la possibilità di scegliere fino a un massimo cioè il mio budget di scelta dei prodotti era di 100 dollari e in più oltre questi 100 dollari loro mi mandavano un kit di 5 prodotti full size da poter provare quindi oltre questi 100 dollari avevo la possibilità di provare altri 5 prodotti i prodotti dei 100 dollari li ho scelti io quindi so che cosa ho preso mentre invece gli altri 5 prodotti che dovrebbero essere i top seller diciamo del loro sito li hanno scelti loro quindi mi hanno mandato 5 prodotti di cui io non so nulla quindi andremo a vedere tutto insieme ma prima di iniziare il video se questa tipologia di unboxing vi piace mi raccomando mettetemi tanti like qui sotto che magari presto ce ne sarà un'altra e se non siete ancora iscritti al canale vi suggerisco di farlo con il tastino qui in basso attivando anche la campanellina per ricevere le notifiche relative ai nuovi video se non mi seguite ancora su Instagram vi suggerisco di farlo anche lì mi trovate come orsottopotto88 io direi di partire subitissimo perché ho le lacrime agli occhi perché voglio assolutamente vedere che cosa contiene il pacco allora io vado eh apriamo insieme sperando di non tagliare nulla con la mia solita fortuna che io sono sempre ok no ce n'è ancora uno da aprire oh mio dio cioè non potete capire veramente allora qui è tutto tutto pieno il pacco allora io direi di iniziare a vedere e di scoprire insieme che cose io vedo già robe che non potete neanche capire allora vediamo un po' allora intanto oh mamma mia questo è bellissimo allora partiamo subito da questo allora allora questo qua è una cosa fighissima che adesso indosserò subito in un nanosecondo allora questo è un asciugamanino diciamo una sorta di cuffietta per andare ad asciugare i capelli quindi è in microfibra penso non lo so sì credo di sì e questa va praticamente lo andrò sicuramente a lavare perché ha dei pelucchietti quindi comunque da lavare assolutamente ma è una cosa fighissima perché cioè non potete neanche capire cioè questa a fare qui con le orecchie tutto rosa vabbè sì potevo comprarlo solo io potevo prenderlo solo io è fighissimo cioè non potete neanche capire allora l'emozione che ho allora quando asciugherò i capelli sicuramente andremo a provarlo insieme a vedere come asciuga è fantastico perché è tutto rosa con questo faccino fantastico di orsetto allora qui sotto nell'info box ovviamente vi lascio tutti quanti i link relativi ai prodotti che vi andrò a mostrare quindi trovate tutto lì sotto questo è da avere assolutamente è bellissimo poi tutto rosa è veramente veramente fantastico quindi prodotto ottimo ok allora continuiamo con i prodotti che ho scelto io e poi passiamo a quelli che mi hanno inviato loro allora ho scelto ho voluto prendere lo sapete che io amo il brand Laneige ho voluto prendere la lip sleeping mask vendono tantissimi brand anche Laneige e quindi sapete che comunque Laneige è un brand coreano ho deciso anziché prenderlo in negozio visto che avevo la possibilità di prenderlo qui con la collaborazione appunto ho deciso di prendere la lip sleeping mask questa qui che è nella fragranza berry è nella scatolina rosa adesso la vediamo insieme è una mascherina all'interno ha anche il pennellino per applicarlo fantastico ok e la mascherina per le labbra è questa quindi andrò ad inserirlo insieme alla mia routine di Laneige e andrò a provare anche questo la fragranza è buonissima sa proprio di fragola lampone quello che è comunque il pack è questo la volevo comprare però visto che ne ho approfittato appunto di prenderla lì questi sono 20 grammi di prodotto e sono stra stra curiosa di provarla poi ho preso ma quanto è carino questo ma quanto è carino allora ho voluto prendere un portaschedine micro sd e sd per la fotocamera e praticamente ho voluto scegliere un portaschede di sanrio perché oltre a vendere tutti i prodotti di skin care coreana hanno veramente tantissime tantissime cose sul loro sito è veramente un sito pazzesco io mi ci sono sempre trovata benissimo allora questo qui è un porta proprio un porta tesserine vedete fatto così con il little twin star è bellissimo veramente mi piace un sacco e all'interno appunto ci sono tutti gli spazi come potete vedere per andare ad inserire tutte le schedine ed è veramente carinissimo questo lo voglio visto che è sottile lo andrò ad inserire vicino a dal pc così non spargo come si dice schedine a destra la manca quindi so che sono lì dentro e quelle mi servono quindi le tengo in questa bustina qui cioè non potete capire allora allora ho scelto ovviamente potevo non prendere delle maschere no allora ho scelto una maschera fantastica perché è di Lady Oscar eccola qui una maschera fantastica di Lady Oscar mi piaceva tantissimo il pack ero veramente cioè non potete capire le cose che c'erano sul sito di Sailor Moon di Tom & Jerry di Lady Oscar c'era di tutto veramente mi sono dovuta contenere nel prendere le cose che potevano essermi realmente utili comunque io una mascherina volevo assolutamente provarla la marca dovrebbe essere Creer Bottee penso che si legga a questo modo qui non ve lo so dire di preciso però l'andremo a provare sicuramente insieme è una mascherina in tessuto fighissima soprattutto il pack cioè c'erano tantissime tantissime mascherine della Lady Oscar però ho voluto prendere questa in realtà dovrebbe essere quella idratante questa dovrebbe comunque io qui sotto vi lascio assolutamente tutto scritto nell'info box quindi andrò a provare anche questa e un'altra mascherina ma questa volta per i piedi ho voluto prendere di Tony Moli perché sul sito anche hanno Tony Moli e questa mascherina dei piedi quella peel questa qui è la Magic Peeling Shoes si chiama Magic Foot Peeling Shoes quindi è quella peeling per i piedi ed è quella esfoliante quindi una volta che andate a inserire i calzini dovete lavare bene i vostri piedi andate ad inserire i calzini che sono contenuti all'interno l'interno dei calzini ha questa sorta di liquido come se fossero maschere per i piedi lasciate agire adesso vi dico quanto fino a un massimo di 30 minuti credo ragazzi è scritto tutto in coreano devo leggere sul sito perché è scritto tutto veramente in coreano quindi non vi so dire in ogni caso una volta che poi andate a risciacquare i piedi entro due settimane dovrebbe fungere da peeling quindi comunque andrà i vostri piedi saranno esfoliati piano piano andranno ad essere esfoliati ho già provato diverse maschere peeling dei piedi non di Tony Moly però questa qui di Tony Moly ero curiosissima anche perché le maschere loro le utilizzo tantissimo quindi ho deciso di prendere questa anche perché qua queste cose qui non si trovano ragazzi quindi semmai questa la possiamo provare in un video insieme e vedere effettivamente come si comporta nell'arco fa un po' schifo forse effettivamente fare un video a riguardo perché poi si vede la pelle che si toglie eccetera però è utile per vedere effettivamente se la maschera funziona perché se non esfolia allora a quel punto lì non ha senso comprarla però se dovesse sfogliare bene secondo me potrebbe essere ottima questo video durerà in eterno lo so già allora poi ho voluto prendere questo qui è un siero alla vitamina C questo è la vitamina C ed è un 30 ml questo è della marca Hello Skin il prodotto è questo è arancione ha il boccettino all'interno arancione anche questo effettivamente è alla vitamina C è un siero per il viso che dona luminosità e luminosità e equilibrio alla pelle del viso quindi è un siero quotidiano quindi si può utilizzare giorno e notte io lo utilizzerò specialmente di giorno quindi andrò ad aggiungerlo alla mia routine sicuramente poi allora ho scelto e di questi ero veramente molto molto curiosa perché non ho mai visto una roba del genere qui allora ho voluto scegliere della marca Riree il prodottino è questo giallo questa è della marca Riree ed è una bubble lip mask ed è uno stick praticamente adesso vi faccio vedere è uno no forse non è uno stick no è un plump allora credevo fosse uno stick allora questo è il prodottino all'interno troviamo 12 ml di prodotto si va a stappare e poi ha il push sopra così per andare appunto a fare un leggero scrub alle labbra e questa qui è una maschera appunto bubble quindi andrà ad esfoliare bene e soprattutto a togliere quelle micro pellicine che troviamo sulla pelle sulle labbra anche questo non vedo l'ora di provarlo sono prodottini molto molto carini e soprattutto anche il pack è veramente carino magari potremmo decidere di fare un video potrei decidere di fare un video dove vi faccio vedere come applicare questi prodotti se siete curiosi eccetera un altro prodotto che mi ha stupito tantissimo sempre della marca Riree questo è uno stick è uno stick per i punti neri rimuove punti neri allora vediamo un po' questo è proprio uno stick con la confezione nera fatto così ed è uno stick che buon profumo sa di saponetta sì allora aspettate volevo tirar fuori e farvi vedere allora lo stick è questo vedete che ha dei granulini all'interno praticamente si va a passare sulle zone del naso magari dei contorni del naso dove si hanno i punti neri e questo dovrebbe andarli a rimuovere ora non so quanto effettivamente possa funzionare questo prodotto però ero curiosissima e vorrei assolutamente provarlo quindi anche questo lo andiamo a provare insieme poi ho scelto della marca Mizon che è questa ho voluto scegliere dei pads per gli occhi questi qui sono alla bava di lumaca e sono c'è scritto snare repair intensive gold eye gel patch e sono appunto dei patch per gli occhi sono 80 pezzi e sono contenuti in questa confezione fatta così con la palettina per andare a prelevare i patch e vabbè è chiusa però sicuramente adesso vado ad aprire perché li voglio utilizzare e i patch sono fatti così sono dorati sono bellissimi quindi si vanno sono in hidrogel e si vanno ad applicare appunto sotto gli occhi quindi andremo assolutamente anche a provare questi poi l'ultima cosa che ho scelto io e direi poi passiamo a quelle cose che mi hanno mandato loro ho scelto un uno scaldino per le mani a forma di avocado non ve lo sto neanche a dire sono appena l'ho visto sono rimasta praticamente stasiata è bellissimo ragazzi non potete capire appena l'ho visto sul sito allora io l'ho visto sul sito ed era figo ma vederlo qua non potete neanche capire allora che cos'è qua allora qui abbiamo i cavetti per caricarlo ma che figo ci sono tutti i cavetti anche con con l'adattatore per il cellulare cioè ma è bellissimo allora abbiamo tutti i cavetti e poi lo scaldino per le mani è bellissimo uh ma si preme qui allora lo scaldino è questo fatto proprio come se fosse un avocado una parte di avocado si va a premere questa parte qui ora ah no ok ora dovrebbe essere accesa perché poi si spegne dovrebbe essere accesa e poi piano piano dovrebbe andarsi a scaldare quindi è una figata pazzesca quindi l'ho pensato proprio per quelle giornate anche da portare da qualche parte nella borsa sicuramente le andrò a mettere in borsa perché tutte le cose che io trovo e prendo tutte le parti le metto poi in borsa e infatti si sta scaldando ma è fighissimo cioè è veramente una cosa bellissima poi a forma di avocado lo sapete che io ho una malattia proprio per gli avocado e quindi ho voluto prendere anche quello allora passiamo oh mamma mia cioè ho visto già che cosa mi hanno mandato e sono è wow per me è wow allora partiamo prima dalle cose un pochino più piccoline allora mi hanno mandato una crema della marca clavu allora questa si chiama blue per session marine acqua enriched cream quindi è una crema per il viso con acqua di mare si e perle estratto di perle coreane cosa fighissima allora abbiamo sempre il nostro preleva crema e la crema è questa anche questa qui è una crema che io voglio assolutamente provare ma io sono curiosissima cioè non posso aprire 80.000 creme lasciamola un secondino chiusa questa per ora poi magari la andiamo a provare insieme però sono veramente molto molto curiosa dovrebbe essere una crema super idratante e che dà luminosità al viso quindi ottimo lo sapete che io ho bisogno sempre di dare luminosità al viso quindi direi che siamo a cavallo poi mi hanno mandato della marca la gomme questa crema qui un'altra crema per il viso questa è una si chiama Cellus Deep Moisture Cream anche qui abbiamo il preleva crema quindi una sorta di cucchiaino e questa è la crema anche questa qui sono molto morbide come crema vedo la consistenza wow un'altra crema per il viso quindi eccola qui sono contentissima cioè per un po' adesso sono posto anche con le creme quindi wow poi mi hanno mandato una maschera una maschera in tessuto questa qui è della marca Double Gear ed è questa maschera qui che si chiama OMG Red più Snail Mask quindi è una maschera rossa dovrebbe essere quindi è ancora più figa con bava di lumaca penso Snail è la bava di lumaca in ogni caso all'interno dovremo trovare 8 super red ingredients quindi ci sono all'interno 8 ingredienti rossi rosa da mascena si ci sono tutti gli estratti dei fiori che sono rossi quindi sono contentissima non vedo l'ora di provarla magari su instagram con una fotina vi farò vedere com'è questa mascherina poi vediamo un po' abbiamo un prodottino da 50 ml questo qui è della marca Nasific io credo che si legga così perché è natural pacific ed è una fitonia chin si chiama whitening essence quindi questa è una essence per il viso che io andrò ad utilizzare magari in combo alla mia essence magari farò mattino una e sera l'altra questa qui è una questa qui dovrebbe essere whitening vuol dire che schiarisce leggermente il viso quindi dovrebbe togliere le discromie e quant'altro proverò vediamo comunque sul sito che cosa c'è questo è un c'è la pompetta praticamente ad andare a prelevare il prodotto quindi non vedo l'ora di poterli utilizzare oh mio dio bellissima allora mi hanno mandato una fascia per capelli che è simile alla mia rosa soltanto che questa è nera quindi ottimo che magari non si nota tantissimo la ciocceria è bellissima cioè come la mia quella con il fiocco per andarmi a struccare questa ha un fiocco gigante e la voglio assolutamente utilizzare questa la voglio assolutamente utilizzare al posto della mia rosa quindi la andrò a cambiare sicuramente andrò ad indossare questa qui ragazze come ultima cosa è una cosa bomba questa bomba e non vedo l'ora di provarla veramente cioè sono estasiata allora troviamo una maschera a led una led therapy mask e io non vedo assolutamente l'ora di provarla allora la scatola è questa ne ho sentito parlare tantissimo di queste maschere con i led e adesso la apriamo insieme vediamo l'ho vista l'avevo già vista sul sito però ho detto no non la prendo perché ho un po' paura di utilizzare queste robe qui però loro me l'hanno mandata cioè sono contentissima allora la maschera a parte che è tutta da collegare con il cavo troviamo all'interno e all'interno troviamo anche degli occhialini per riparare praticamente gli occhialini si vanno ad applicare all'interno quindi si vanno prima ad applicare i nostri occhialini per tenere gli occhi a riparo e poi abbiamo questa fantastica maschera allora questo è il davanti poi abbiamo il retro che è fatto così quindi si va ad appoggiare come se fossero degli occhiali ci sono i nasini qui davanti quindi si va ad appoggiare sul naso abbiamo l'apertura degli occhi ovviamente e qui dietro troviamo tutti i led dovrebbe fare tre luci mi pare di aver letto sul sito allora questa si esatto fa tre luci una rossa una arancio e una blu devo andare bene a leggere che cosa significa che cosa significano i colori quindi a che cosa servono i colori però è una maschera fighissima io questa cosa qui non vedo assolutamente l'ora di provarla ok sembro uscita da un film di paura va bene però cioè non potete capire è una cosa fighissima questa quindi la proveremo insieme magari per vedere l'effetto che fa e non lo so io ne ho sentito parlare bene di queste maschere fatemi sapere se voi per caso avete provato a fare questa sorta di therapy mask e scrivetemelo con un commentino qui sotto mi raccomando così da sapere un po' i vostri pareri perché sono super curiosa di poterla provare quindi ragazzi questo è tutto quello che mi hanno mandato sono veramente contentissima e non vedo l'ora di provare tutte queste novità e farvi sapere cosa ne penso per voi ho un codice sconto ovviamente allora intanto qui sotto nell'info box troverete tutti quanti i link delle cose che vi ho mostrato quindi qui sotto andate a vedere che trovate assolutamente tutto per voi ho un codice sconto il codice sconto è alessandra5 che vi darà diritto al 5% di sconto sull'intero sito quindi assolutamente da approfittarne perché la skin care coreana secondo me a mio avviso è meravigliosa quindi tutto ciò che è prodotto coreano a me piace un sacco ne ho provati di diversi brand però questi non avendoli mai provati veramente sono stra curiosa e comunque conosciamo vari brand coreani che sono venduti qui anche tipo da sephora che vendono la neige troviamo toni moli eccetera quindi comunque la maggior parte dei brand coreani che tiene sephora io l'ho provata e mi sono sempre 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 trovata bene sono veramente super super contenta quindi ringrazio tantissimo YesStyle per avermi dato la possibilità di provare i loro prodotti niente ragazzi noi come al solito ci vediamo al prossimo video vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao